Eccoci a eccoci, non è un gioco di parole, è il mio paese che si chiama proprio così, eccoci. Se lo guardaste dall'alto immaginando, che so, di essere su un aereo, probabilmente non vi rendereste conto nemmeno di guardare un paese, ma se vi avvicinaste un po' di più potreste vedere un insieme di case, casette e casolari, alcuni un po' di roccati, in mezzo a campi veri e coltivati. Poi c'è il centro del paese, che chiamiamo centro, ma è una piazzetta quadrata, piccola, con la chiesa di Don Giuseppe da una parte e il bar della Gabri dall'altra. Non viene mai nessun turista, eccoci, passano soltanto in auto e vanno via per recarsi in qualche altro luogo. Mi chiamo Quisquilia e sono una bambina di nove anni, con una stramba famiglia, piena di fratelli, e decido di indagare su un misterioso furto che avviene nel mio piccolo e tranquillo paese. Con molta audacia mi trasformerò in un'abile investigatrice.